Un altro incontro a porte chiuse tra i legali dei Via Carducci insieme a una delegazione delle famiglie e all'ingegnere dell'area tecnica del comune Pina Leonardi per stabilire i criteri e le modalità di trasferimento delle 46 famiglie in questi alloggi popolari ormai pronti dove manca soltanto il collaudo statico che però dovrebbe avvenire in tempi rapidissimi. Ma intanto sentiamo proprio da uno dei legali delle famiglie, l'avvocato Cristoforo Alessi, come avverrà questo trasferimento e secondo quali criteri. Il primo criterio che verrà seguito è la composizione del nucleo familiare perché ovviamente le case variano di metri quadri e a chi avrà un nucleo ovviamente composto da una o due persone verranno date case di metri quadrati inferiori, chi invece ha famiglia più numerosa verranno dati case con più spazio. Ovviamente all'interno poi se ci dovessero essere casi di più persone, più famiglie, più nuclei familiari con lo stesso numero di componenti verrà preferito il criterio dell'anzianità. 31 alle famiglie assegnatarie di questi appartamenti, resta da sciogliere il nodo dei 16 cosiddetti abusivi e sentiamo ancora una volta Alessi su come si muoveranno i legali per cercare di far sì che anche queste famiglie possano avere il diritto alla casa. Si potrebbero profilare tra le varie ipotesi quelle di evitare problemi di ordine pubblico, di possibili occupazioni abusive e comunque tenendo sempre conto che queste persone che andranno ad abitare in questi alloggi erano all'epoca già abitanti in via Carducci da diversi anni perché altrimenti l'allora sindaco non avrebbe fatto un verbale di trasferimento ma avrebbe ovviamente fatto altri atti amministrativi. Voi state chiedendo un'ordinanza quindi al sindaco affinché si possa dare il diritto alla casa anche a queste persone? Sì, questa ordinanza è una delle ipotesi così come potrebbe anche essere l'ordinanza di consegne in custodia o la possibilità di dare comunque degli alloggi in via temporanea secondo una normativa nazionale che riguarda casi analoghi di persone in difficoltà ma ovviamente la strada più percorribile almeno secondo noi è quella dell'ordinanza contingibile ed urgente che sicuramente per far fronte a un problema di ordine pubblico.